Il campo conferma il buon lavoro svolto da mister Cesare Pallara con le giovanissime Arancioni. Contro il Ponte d'Era, nella partita di oggi, il risultato è stato di ben 7 a 1, con due reti di Nigro, due di Bini e tre di Corsini. Al di là delle difficoltà di organico delle avversarie, costrette in inferiorità numerica, si è assistito ad una prestazione di sostanza delle Arancioni. Da segnalare le ottime performance di tutte, ma stavolta una menzione va a Ilaria Tavanti, che ha giocato a tutto campo e da questo non ha mancata la soddisfazione del gol. Sono soddisfatto della prova della squadra, anche se devo dire di averla vista più ordinata nella partita disputata otto giorni fa a Lucca. Abbiamo adesso due settimane per preparare la prossima gara e per recuperare le indisponibili, perché il prossimo sabato riposiamo. Queste le parole al termine della gara proprio dell'allenatore Cesare Pallara, che ha mandato in campo Paoli, Perna, Nigro, Barattucci, Tavanti, Pietrarelli, Bini e Piazzese. Piazzese è stata sostituita poi per la grua e Pietrarelli ha lasciato il posto alla compagna Mesaglio da Pistoia. Antonello Caruso Piazzese è stata sostituita poi per la grua e Pietrarelli ha lasciato il posto alla compagnia della gara e Pietrarelli ha lasciato il posto alla compagnia della gara e Pietrarelli ha lasciato il posto alla compagnia della gara.